Comunicato a tutti gli amici, conoscenti e voi tutti. Ho deciso, qui lo dico e lo ribadirò in futuro, ho deciso di leggere le mie poesie esattamente come state ascoltando questo testo, con questa euforia, con questo trasporto, con questa emozione, perché ho deciso che questo tono è quello che mi rispecchia di più. Se davvero lo volete, se me lo chiederete espressamente, registrerò anche una mia poesia con questo tono irresistibile per vedere l'effetto che fa. A presto e un saluto a voi tutti.